No, fino a che non ci fermano. Matteo, potrebbero servire i militari così tante persone? Vai, vai! A volte funziona, a volte no. Però ci proviamo. Salvini, mi raccomando, ho dicevi prima, anche i militari scenderanno in piazza. Ma la forza, Salvini? Molti mi dicono tenete duro perché avete ragione. Marina militare, esercito, polizia, carabinieri, ovviamente, indossano la divisa e lavorano per conto dello Stato. E rispettano quelle che sono in posizioni anche se sbagliate. Aspetto che si facciano vivi pubblicamente anche loro perché non se ne può più. Come lo dicono a me, spero che lo dicano anche a voi. Salvini, Bosse ha detto che la sua politica per quanto riguarda la Lega Nord è una volta sbagliata. Mi interessa anche queste polemiche. Non ha nulla da dirvi? No. Salvini, lei ha detto che siamo pronti a gestire i sopredimenti per bloccare le stagioni. Non dovremmo arrivare a farlo, però d'altronde la gente non ne può più. E anche le forze dell'ordine non ne posso più. Aspetto il giorno in cui potranno dirlo pubblicamente. Come lo dicono a me, gli uomini della Marina, dell'esercito, polizia, i carabinieri non ne possono più. E sono arrivati al limite. Ovviamente indossano una divisa. Arriverà il momento in cui disubbidiranno anche loro. E' bellissimo.